Bello, curato di tutto, grande ritmo, uno spettacolo che parla di argomenti anche difficili, però in maniera che arrivino a tutti e a tutte le tappe. Lui è bravo e anche, non lo so, è un spettacolo impegnato, però leggero. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, tanto. Sempre stavo molto bene. Tutto. La parte che mi è piaciuta di più è quella della... Flavio incanta come pochissime persone, è un mostro sul palco. Di quando... Se dico invece è da dei bambini, è del successo, quindi adesso qualcosa significa. Quando finì la guerra? Quando Zeus ha detto la profissia. Raccontare la storia dell'universo, del mondo e di quello che siamo, dovremmo essere, pensiamo di essere, farlo in così poco tempo, è con tanta forza, è davvero da poco, è l'unico che è raro. Lo consiglieresti ad altri bimbi questo spettacolo? È stato un crescente, iniziando pian piano, entusiasmando e poi involgendo i bambini e poi è stato un'esplorata emozione per tutti quelli che lo ascoltano. Consiglio vivamente, in fraternità, un lavoro geniale, teatro puro, scampo, materasso... L'universo è un materasso. L'universo è un materasso. Assomandiamolo a tutti e ce lo vedremo sicuramente un'altra volta. Geniale, bellissimo. Grazie a tutti.